Annuncio del Papa al termine dell'Angelus di questa domenica alla presenza di 20.000 fedeli e pellegrini. Francesco l'ha fatto in compagnia di alcuni bambini, rappresentanza dei cinque continenti, che si sono affacciati dalla finestra del Palazzo Apostolico assieme a lui. Insieme con loro desidero annunciare che nel pomeriggio del 6 novembre nell'Aula Paolo VI incontrerò bambini di tutto il mondo. L'evento patrocinato dal Dicastero per la cultura e l'educazione avrà come tema Impariamo dai bambini e dalle bambine. All'organizzazione dell'appuntamento, coordinata dal francescano padre Enzo Fortunato, stanno lavorando anche altri soggetti come gli istituti scolastici regionali e il gruppo Ferrovia dello Stato. Nella lista c'è anche la comunità di Sant'Egidio, la cooperativa Auxilium e la Federazione Italiana Gioco Calcio. Si tratta di un incontro per manifestare il sogno di tutti, tornare a avere sentimenti puri come i bambini, perché chi è come un bambino appartiene al regno di Dio. Citando il Vangelo, Papa Francesco si è rivolto direttamente agli adulti. I bambini ci insegnano la limpidezza della relazione e l'accoglienza spontanea di chi è forestiero e il rispetto per tutto il creato. In conclusione, un invito speciale ai piccoli. Cari bambini, a tutti voi vi aspetto per imparare anche io da voi. Saludate. Grazie. 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 Grazie.